guarda io non ti voglio obbligare ma ti disegno l'esempio che raccontato venerdì pomeriggio al telefonino mentre girava un video tu sei qui partenza e vuoi arrivare qui arrivo ma ci sono tre ostacoli enormi da evitare oggi non posso farlo mi serve il permesso particolare prima lo stretto necessario e poi via via andiamo con le rifiniture in buona sostanza vari vicissitudini che possono portare a posticipare la realizzazione di una rifinitura domestica che riguarda gli impianti ora immagina che il percorso da fare più è breve e meno ti costa tu preferiresti fare questa strada qui oppure preferiresti fare questa strada qui la mappa degli impianti ti aiuta a scrivere subito il tuo percorso che potrai finire come e quando vorrai con sicurezza di non commettere errori e non buttare via soldi predisponendo nel modo corretto tutti gli step futuri che vorrai realizzare nella tua abitazione e tu cosa aspetti a chiedermi di realizzare la tua mappa